Inaugurato oggi pomeriggio a Marina di Ravenna, la ruota panoramica che quest'anno ha preso sede alla taverna Bukowski, proprio di fronte all'area dove dovrebbe sorgere il futuro grattacielo già al centro di polemiche. 40 metri d'altezza, costruita dalla ditta Fabri Park, una capienza di 126 passeggeri, per la ruota panoramica si tratta di un ritorno a Marina dopo la prima edizione di due anni fa, questa volta con una lavorazione tutta italiana. Due anni fa è andata benissimo, al contrario di quello che non avete scritto, che siamo fuggiti di nascosto. Però è andata benissimo, quindi abbiamo deciso di, due anni fa praticamente la giostra non era italiana, era tedesca, anche se costruita in Italia, e invece abbiamo deciso di fare una giostra tutta italiana, costruita da noi, con un'impresa italiana. Anche quest'anno confermate l'offerta della cena, come funziona? Ci convenzioniamo sicuramente con dei nostri locali, adesso non sappiamo ancora se, sicuramente sarà la taverna a Bukowski, o magari il caffè del mare, eccetera, eccetera, e faremo una cena a bordo, nella cabina VIP, dove le persone potranno cenare in alta quota, al nome di Candela, diciamo così. Un'altra cosa molto importante è la ruota panoramica aperta anche a persone con disabilità. Sì, abbiamo creato proprio una giostra per tutti, perché abbiamo una cabina esclusivamente per i disabili, dove possono esufforire anche loro di questo divertimento in massima sicurezza e completamente gratis. Parliamo un attimo delle caratteristiche della ruota quest'anno, che caratteristiche sono? La ruota panoramica che vedete qui davanti è la ruota itinerante più alta in Italia, mai costruita. Ha due primati, uno è questo e uno è praticamente che ha più di 15.000 luci a LED, con 252 colori diversi a occhio nudo, ne farebbe molto di più poi, con più di 40 minuti di giochi. È una cosa paragonabile benissimo alla Lorelai di Las Vegas. Quest'anno rimarrete fino a quando? Fino al 18 di agosto. 18 di agosto, poi dopo partiremo per Bologna, per il Festival dell'Unità del PD al Parco Nord, e debuteremo lì il 26 di settembre.